Buongiorno a tutti, allora stiamo cercando di andare a Torino ma siamo bloccati in macchina da circa mezz'ora e siamo presente nel nulla perché non c'è niente e questa è la scelta Sio, saluta Ciao Bravo Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo arrivati a Torino Stiamo cercando un posto da mangiare Allora, mi ha appena finito di mangiare e mi hanno portato in un posto Dove fanno le patate con dentro varie cose Niente, no, se è capitato a Torino andateci perché è veramente figo Non c'è un saluto? Bella zì Bella zì Bella zì E ora stiamo andando alla Mole, poi ho usato il cinema e poi Piazza Castello Papi, ti piace Torino? Che figo Che figo, cioè il semaforo è appeso, non l'avevo mai visto Non l'hai mai visto? No, ti giuro Questa Castello prima o dopo? Questa Castello? Questa Castello Questa Castello Poi c'è lui Questa Castello Questa Castello Scusate belli Molto bene, molto bene Stai stanco? Guarda su Wow Aiuto Ok 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 nel vuoto il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info il mio bodyguard e poi c'è lui che è il mio manager stiamo girando per le strade di Torino maccaroneria di Gragnano la macchina ecco appunto ma cosa è grave non si ricordano dove hanno mostrato la macchina tu ti ricordi dove mi mostrato dritto? oggi ci perderemo a fuori miami miami